Fotografie delle vittime, bandiere iraniane e tanti striscioni davanti ai cancelli del tribunale di Solentuna, in Svezia, dove è iniziato il processo di appello a carico di Amit Nuri. Il funzionario iraniano è stato condannato all'ergastolo lo scorso luglio per aver favorito l'esecuzione di almeno 5.000 prigionieri politici iraniani a coronamento della guerra tra Iran e Iraq nel 1988. Penso che questo processo ancora una volta evidenzierà ciò che è accaduto in Iran nell'88 e mostrerà la ferocia di questo regime. Ritengo che oggi, dopo quattro mesi di protesta e una rivoluzione in Iran, le persone abbiano una comprensione molto più accentuata della ferocia del regime e questo processo accenderà anche i riflettori sulla ferocia che vige in Iran. Nuri, che si proclama innocente, afferma di essere stato scambiato per qualcun altro. Secondo il Tribunale, ha lavorato invece come sostituto procuratore in un carcere vicino a Teheran, scortando i prigionieri sino al luogo dell'esecuzione.